Il tema della validazione è fondamentale per Castaglia. Innanzitutto nella cartella di installazione di Sargon è disponibile un file Word chiamato criteri di validazione che contiene la filosofia adottata dalla società nell'approcciare il problema. Inoltre sul sito castagliaweb.com ci sono varie pagine dedicate all'argomento con anche numerosi esempi di schede di validazione che sono anche poi pubblicate in libri di testo dell'ingegner Rugarli. Vediamo che nell'interfaccia del programma Sargon c'è un menu dedicato proprio alla validazione di documentazione. Quest'area è in fase di rapido sviluppo e si rimanda alla documentazione scritta. Diamo però le linee guida di cosa può fare l'utente con questo menu. Innanzitutto è possibile creare una targa del modello oppure un'informativa. La targa e l'informativa possono essere create per l'intero modello oppure per una sua parte che viene indicata mediante la selezione di opportuni elementi. L'informativa contiene informazioni che l'utente può leggere e interpretare direttamente, mentre la targa è un'impronta del modello CryptData che serve al confronto automatico con altre targhe. È un aspetto molto importante perché in questo modo si possono confrontare targhe di modelli diversi oppure in un futuro anche targhe create con programmi di calcolo diversi per verificare se due modelli costruiti modellati separatamente sono confrontabili o meno. Quindi se sono stati costruiti con la stessa geometria, con l'assegnazione degli stessi materiali e sezioni, se i vincoli e gli svincoli sono stati posti ugualmente nei due modelli e così via. Quindi questa targa è come se fosse il DNA del modello e contiene in un file ridotto informazioni molto dettagliate che possono essere appunto confrontate in modo automatico. Come detto questa parte è in rapido sviluppo e in futuro ci saranno avanzamenti e migliorie. Per questo si rimanda come detto alla guida e alla documentazione sul sito.